E in studio con noi in questa edizione del GR5 è Sergio Dalmasso dell'Associazione Acqua Bene Comune. Benvenuto in frequenza. Grazie. Giovedì 2 luglio, giornata calda in tutti i sensi, in provincia si parlava di acqua ed è successo di tutto. Allora Sergio Dalmasso, vogliamo spiegare agli ascoltatori che cosa è successo? Innanzitutto si è svolta l'assemblea dei sindaci dell'autorità d'ambito che decide sull'acqua. Questo è un risultato che possiamo dire nostro perché siamo noi ad aver chiesto la convocazione dell'assemblea alla presidente Bruna Sibille e lo hanno fatto su nostro invito 46 consigli o giunte comunali della provincia. Era l'occasione giusta per decidere quale sarebbe stato il futuro della gestione del servizio idrico perché entro il 30 settembre lo Sblocca Italia prevede che si decida almeno la forma di gestione, se sia cioè pubblica, privata o mista. E le presenze erano autorevoli perché c'era anche in doppia veste Borgna sia come sindaco che come presidente della provincia. Le presenze erano poi eccezionali come numero perché c'erano 170 sindaci e quindi questo era un risultato, un'occasione di democrazia secondo noi. Un'occasione che non si è sfruttata perché in pratica non si è presa una decisione. È stato presentato un documento dal presidente della provincia Borgna che stabilisce un percorso per arrivare a decidere la forma di gestione. Nell'introduzione Borgna si è espresso per una società in ausi, in ausi significa in casa e quindi pubblica. In realtà nel documento compare la dicitura società a partecipazione pubblica e non è la stessa cosa perché partecipazione pubblica può voler dire anche solo l'1% o comunque anche se fosse una percentuale, anche il 51% che dà la maggioranza, l'apertura ai privati dimostra che le società miste sono comunque società che agiscono con le logiche dei privati. Se una società privata entra in una gestione di un servizio lo fa per avere i profitti. C'è stata la presentazione da parte di Fabrizio Bile e il sindaco di Guglielo di un emendamento perché andava bene quel documento sarebbe stato accettato. Ma con una piccola correzione. Esatto, una parola sola che si scrivesse la parola totalmente a una società a partecipazione totalmente pubblica. Questo era assolutamente in linea con l'introduzione che Borgna aveva fatto e con la gran parte degli interventi precedenti. Eppure inspiegabilmente questo emendamento Borgna ha detto che non l'avrebbe accettato e così molti sindaci si sono accodati. Solo una parte piccola di sindaci, comunque abbastanza significativa, ha votato a favore dell'emendamento. Altri si sono astenuti e tutte le sette sorelle ad eccezione di Mondovì che si è astenuta hanno votato contro l'emendamento e così anche la provincia. Nonostante le promesse perché l'ordine del giorno approvato dal comune di Cuneo e da molti altri comuni prevedeva espressamente la richiesta dell'assemblea al pronunciamento in favore di una società pubblica. Cuneo ha rinnegato l'ordine del giorno che era stato approvato all'unanimità e così anche le promesse di Borgna in incontri che noi avevamo avuto o in occasioni pubbliche. Borgna si era pronunciato in direzione dell'astensione per quanto riguarda la provincia. Invece la provincia non si è astenuta ma ha votato contro l'emendamento e quindi per l'approvazione di questo documento che poi è stato approvato successivamente senza l'emendamento che lascia aperta una porta all'ingresso dei privati. E' stato fatto l'esatto contrario di quello che i consiglieri avevano deciso. Ma ne ospichiamo che avvenga questa discussione a Cuneo come in molti altri comuni in cui questo ordine del giorno era stato approvato. Una buona parte di quelli che l'hanno approvato hanno mantenuto fede al loro impegno ma altri no. Immaginiamo che ci sia una discussione in tutti i comuni. Noi pubblicheremo appena le avremo l'elenco dei sindaci per vedere come hanno votato. E' giusto che i cittadini che hanno votato un certo senso nel referendum perché dappertutto si è votato a fordere l'acqua pubblica chiedano conto ai propri sindaci del loro pronunciamento. E ci sarà tutto un lavoro da fare perché comunque questo documento prevede riunioni della conferenza a scadenza mensile per arrivare comunque tra il 30 settembre alla decisione. E noi staremo con gli occhi aperti a denunciare anche quello che succede. L'esperienza dimostra che alla fine le decisioni non vengono prese nella conferenza dove si riuniscono 16 rappresentanti ma vengono prese all'interno del comitato esecutivo. Poi la conferenza le vota, le ratifica. Il comitato esecutivo in cui si riuniscono un gruppo più ristretto di sindaci non è aperto al pubblico. Noi chiederemo i verbali delle riunioni dell'area omogenea perché questi 16 rappresentanti dovrebbero riunire i sindaci delle loro aree. Noi abbiamo il forte sospetto che questo non avvenga. Noi chiederemo i verbali di queste riunioni perché si è persa un'occasione di democrazia con l'Assemblea e noi cercheremo ancora di chiedere che questa democrazia si realizzi. Allora il tempo è terminato, io devo fermarti Sergio Dalmasso. Ci rincontriamo a breve per vedere come si sviluppa questa situazione. Possiamo dire una battaglia persa ma con lo spirito di vincere le prossime. Esattamente così, noi continueremo a lottare. Grazie, alla prossima.